Bilancio più che positivo per la danza e ginnastica Kodokan dal punto di vista della società sportiva per gli ottimi risultati conseguiti nella prima giornata di gare del campionato nazionale Libertas di Ritmica al Palaterme di Monte Catini. L'associazione sportiva danza e ginnastica Kodokan ha raggiunto infatti importanti traguardi. Ottimo il bottino per le sezioni silver, oro al corpo libero per le atlete Greta Pellegrino e Maribel D'Alessandro, argento invece alla palla per Valentina Marino. Le stesse atlete al collettivo hanno conquistato un altro secondo posto, due primi posti invece per Beatrice Pascucci, Ludovica Lagreca e Michela Izzo di specialità al cerchio e clavette.